Amici di Youtube e di Instagram, buonasera a tutti quanti, buonasera, eccoci qua a commentare il girone perfetto, oserei dire il girone perfetto, che abbiamo preso. Ne ho preso un girone, perché perfetto? Perfetto perché è un girone che si sposa perfettamente con l'esigenza che doveva avere l'Inter, nel senso un girone non troppo materasso, ma neanche un girone di ferro. Secondo me il girone dell'Inter con Benfica in prima fascia, in terza fascia il Salisburgo e in quarta fascia il Real Sociedad è secondo me un girone equilibrato per l'ultima, perché comunque il Benfica è una squadra che già conosciamo e che gli abbiamo già aperto il culo senza un'Inter completa come quella di quest'anno. Ancora, vedremo ancora sul 10 gioco Mario San Siro, brutti ricordi, ma anche belli per il rigore che ci ha regalato l'anno scorso. Quindi squadra che già conosciamo e che abbiamo già arato, quindi per essere una testa di serie ci è andata molto bene. Salisburgo, una squadra con un grandissimo ritmo, piena di giovani, che conosciamo anche essa molto bene per l'amichevole estiva di quest'anno. Insomma, una squadra ha cambiato tanto, ha perso tante pedine importanti, ha Sesco che è un giocatore veramente fondamentale, però siamo l'Inter. avversario ovviamente giocabilissimo, quindi prima fascia ci è andata bene, perché il Benfica ci è andata bene, terza fascia, Salisburgo, ci è andata bene lo stesso. Quarta fascia, forse ecco, potevamo prendere di meglio, però gli Sociedad è una squadra, vabbè, una squadra assolutamente abbordabile, con tanti avversari, comunque con una rosa abbastanza su con l'età, non spaventa più di tanto, in casa le Sociedad si trasforma una bolgia, però detto questo non ci lamentiamo, un girone perfetto per le nostre esigenze, non un girone pieno di top, ma neanche un girone materasso, perché vorrei ricordare a quelli che volevano un girone materasso che questo non è un girone materasso, perché? E poi i gironi materasso non vanno neanche bene, visto che poi arrivi agli ottavi e poi dopo ti trovi spiazzato a giocare con big che hanno magari, che ti tengono al campo 90 minuti e non hanno lo stesso ritmo delle squadre materasso che hai affrontato nel girone. Semmai un girone materasso ce l'ha il City, come ogni anno, questi scolati di merda che c'hanno il City, c'ha l'Ipsia come seconda fascia, terza fascia, la Stella Rossa e quarta fascia, lo Young Boys, cioè questo è un girone veramente... c'è solo il City sto giurone praticamente. E niente, quindi il Barcellona è andato bene, Porto, Chaita Donetsk e Anversa è andata bene, e per le italiane, insomma, a parte l'Inter è andata, secondo me, un girone perfetto che serviva, alla Lazio è andata molto bene, sia una terza fascia, Feyenoord e Atletico Madrid e Celtic, secondo me, anzi è andata di culo, ma a leggerla è sempre un girone di Europa League, questo, cioè, quindi, nel senso... è andata molto bene anche la Lazio, però vedremo se saprà gestire bene gli impegni col campionato, male invece Napoli-Milan. Male il Milan, che prende un bellissimo girone, un bellissimo girone con il Paris Saint-Germain di Donnarumma, il Newcastle di Tonai e il Borussia Dortmund, che anche se ha perso Bellingham e ha perso Haaland è sempre una squadra di tutto rispetto. E niente, poi il Bayer-United-Kopenhagen-Galata-Sarai, in Galata-Sarai un girone un po' così, e il Napoli male, male più che altro, male per la... perché prendere il Real la seconda fascia è male, però... il Braga e l'Union Berlino, di Bonucci e Gosens, vedremo, 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 vedremo come andrà. Detto questo, niente, amala sempre, il giro, ripeto, il girone perfetto, per le nostre esigenze, perché serviva un girone, non troppo di ferro, ma neanche materasso. Abbiamo invece tre squadre abbordabili, ma tre squadre non da sottovalutare, ma non sottovalutando mai l'avversario, c'è andata bene, perché il Benfica conosciamo già come gioca, Salisburgo è una squadra con tanti giovani che tiene il ritmo alto, ma comunque abbordabilissima, che può dar filo da torcere, quindi bisognerà stare attenti e quindi anche con la preparazione sapremo già il... il comunque, no, sapremo già le... atleticamente quanto ci impegnerà la trasferta anche in Austria e anche per i ritmi che tengono e poi il Sociedad come quarta fascia poteva andarci meglio, ma non ci lamentiamo perché vogliamo squadre di livello. Detto questo ragazzi, forza Inter, ammala sempre, un bacione da tutti, ci vediamo al prossimo video. Vada ragazzi. Quindi dimenticavo, occasione d'oro per passare il girone e per avere in cassa un altro obiettivo stagionale come il passaggio ai gironi l'anno scorso, la finale dell'anno scorso, gli ottavi di finale di due anni fa, la finale di Europa League, quindi arrivare primi nel girone e passare questo giorno ti permetterebbe di entrare e di partecipare al Mondiale per Club, che dopo la finale di Europa League con Conte, dopo gli ottavi con Inzaghi, dopo la finale di Champions dell'anno scorso, avremmo altra occasione per rendere l'Inter più forte e dominatrice d'Europa e d'Italia. Ammala sempre, forza Inter!